La freddezza dei numeri non può spiegare l'immigrazione così come invece lo possono fare le storie di chi l'ha vissuta con il viaggio, ma anche di chi ha scelto di accogliere quanti sono partiti per scappare da guerra e miseria. E' questo il presupposto da cui nasce il libro Dov'è tuo fratello? Famiglia, immigrazione e multiculturalità. Scritto da Giuseppe Dardes e Ignazio Punzi, edizioni San Paolo, e presentato dagli stessi autori ospiti nella biblioteca Casa di Leo a Bucaletto su iniziativa della Caritas Diocesana di Potenza. L'appuntamento moderato dalla giornalista Virginia Cortese ha inaugurato una serie di incontri per la presentazione di altre opere in collaborazione con l'Associazione Letti di Sera. Dopo l'introduzione di Marina Boncristiano della Caritas di Potenza, l'avvio della riflessione su un tema attuale che interessa da vicino anche la città, capoluogo di regione. Noi abbiamo scelto di impostare questo libro con una narrazione un po' diversa di quella che si sta ascoltando in questo tempo, diciamo, sull'immigrazione. Non abbiamo lavorato molto sui numeri, sull'allarme che questo fenomeno epocale sta producendo nell'opinione pubblica, ma abbiamo cercato di valorizzare le storie, una narrazione quindi diversa che punta sulle storie di vita, sui vissuti di queste persone che viaggiano, intraprendono dei viaggi anche molto impegnativi, dolorosi, a volte drammatici per arrivare nei nostri paesi. Ma oltre ad esplorare questo viaggio, il viaggio di chi arriva, abbiamo voluto raccontare il viaggio di chi accoglie. Quali sono i vissuti, le esperienze, le fatiche che si fanno nell'accogliere queste persone? Chiavi di lettura sono diverse. Una di queste è che l'arrivo di questi stranieri, di questi, molti appunto scappano da guerra, scappano dalla fame. Una di queste chiavi di lettura è che queste persone arrivando qui ci offrono una sfida. Cioè la sfida dell'accoglienza. In realtà ci riportano un po' alle dimensioni fondamentali della vita, perché la vita è accoglienza. Un libro dunque che percorre diverse strade per far conoscere al lettore chi sono gli immigrati, ma anche chi accetta la sfida dell'accoglienza. In realtà ci riportano un po' alle dimensioni fondamentali dell'accoglienza. Grazie.